fratelli se c'è qualche consolazione in cristo se c'è qualche conforto frutto della carità se c'è qualche comunione di spirito se ci sono sentimenti di amore e di compassione rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità rimanendo unanimi e concordi non fate nulla per rivalità o per vanagloria ma ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso ciascuno non cerchi l'interesse proprio ma quello degli altri abbiate in voi gli stessi sentimenti di cristo gesù questa era la comunità di filippi era una reale comunità cristiana una bella comunità e paolo chiede a loro di crescere nel fare comunione ma oggi c'è ancora la comunità cristiana chi di noi ha fatto veramente esperienza di comunità cristiana i ragazzi i giovani e gli adulti si allontanano dopo un po di catechismo dopo un po di incontri vanno via ma hanno fatto esperienza di comunità e chi viene chi partecipa quei pochi praticanti ma facciamo esperienza di comunità cristiana siamo comunità o non lo siamo è una realtà solo dei primi cristiani ormai siamo condannati a non vivere più questa dimensione che è una dimensione fondamentale nella nostra esperienza cristiana l'abbiamo perduta completamente qualche volta viene da pensare di sì guardiamo le nostre messe qualche volta siamo una serie di estrani che si incontrano per caso stanno un po' insieme e poi vanno a casa nell'anonimato la comunità è un contenitore è un'etichetta è una cosa formale il prete più che un animatore di una vita comunitaria che c'è sembra colui che dirige il traffico perché la gente non si scontri e tu sul tuo lavoro nei tuoi ambienti di vita quotidiana ci vai a nome tuo non sei espressione di una comunità che vive e prega per te chi lo sa che lavoro fai nella tua comunità chi lo sa che scuola fai chi lo sa quali sono le situazioni di vita ma quando ci raccontiamo queste cose e allora ci credo che non riesci a cambiare le cose nei tuoi ambienti di vita ci vai da solo non ci vai portando l'unità del corpo di cristo ma forse non è colpa tua perché la comunità non ce neanche non esiste finché sarà così quasi tutto quello che faremo sarà inefficace anche a volte ci sono persone che si impegnano io per primo mi impegno nella comunità ma lo facciamo a nome proprio non a nome di una comunità perché la comunità tante volte non c'è non sentiamo una comunità che veramente sostiene il tuo impegno come animatore come catechista come prete come ministro straordinario ti senti da solo ma come anche coi ragazzi qualche volta abbiamo un modo di parlare dei ragazzi non evangelico ci sono certi elementi quegli elementi sono i ragazzi un po vivaci non li chiami persone li chiami elementi non hai stima non hai amore e allora ci credo se tu non li ami ragazzi viene fuori da loro il peggio non scatta il meglio solo se sentiranno il nostro sguardo d'amore faranno quello che gli chiediamo e a volte scoprirete che chiedendo tanto faranno tanto tra noi impegnati invece di esserci la solidarietà la simpatia la preghiera l'uno per l'altro a volte c'è il giudizio siamo invidiosi quel poco che c'è da fare siamo invidiosi gli uni degli altri quell'altro non mi piace con quell'altro non mi trovo bene a lavorare ma siamo quattro gatti impariamo a lavorare insieme non vediamo l'altro con un pregiudizio positivo l'altro ha sempre delle doppi fini delle doppie cose delle delle altre degli altri fini non è mai sincero ecco qui che abbiamo lo sguardo umano non abbiamo lo sguardo di fede gli uni sugli altri allora come può nascere una comunità ci credo allora che non c'è luce ci troviamo a discutere a fare le scelte e vanno male e le cose non funzionano nelle cose non non reggono facciamo le scelte sbagliati perché non c'è comunione quindi non c'è la luce c'è gente in questa chiesa che non sa vivere l'unità ma chi non sa vivere l'unità è un analfabeta del cristianesimo perché vive vivere l'unità è la differenza tra cristianesimo e ogni altra religione le altre religioni non richiedono questo il cristianesimo lo chiede come condizione non puoi entrare nell'esperienza cristiana se non sai vivere l'unità ecco qui il salto di qualità certamente l'unità è amare la croce perché significa soffrire di più voler costruire l'unità e scegliere il dolore a volte di non essere capiti e morire un po' stesse ma l'unità è la vita vera è la vita nuova è la vita eterna il paradiso è quella realtà in cui tutti si trovano bene si entrano accolti è la fonte della gioia è dio tra noi se non c'è l'unità io non resisto ecco non ce la faccio non ce la faccio più a vivere senza unità non posso basta vedo però che ci sono alcuni di voi che riescono a fare l'unità continuate ma altri riescono a vivere anche anni senza l'unità con una persona della comunità facciamo la stessa comunione tutte le domeniche e non ci parliamo da anni o peggio non ci conosciamo neanche io non posso fare così io non posso vivere così dobbiamo veramente dare un taglio dobbiamo veramente dare una svolta dobbiamo considerare che questa è l'unica cosa da fare ecco non fate nulla per rivalità o per vana gloria eliminiamo queste queste malattie da in mezzo a noi non si può essere è una rovina ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stessi valorizzare gli altri gioire del bene trovare il positivo diventate degli scopritori della bellezza delle persone attorno a voi veramente il vostro sguardo deve essere come una casa che fa sentire a suo agio deve essere una misericordia che tira fuori il meglio delle persone abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù non ritenne un privilegio l'essere come Dio ma svuotò se stesso svuotiamoci un po' da noi stessi e impariamo a fare comunione una buona volta